Ciao a tutti, sono Don Giambattista della parrocchia di Isola d'Arbia e Ponta Tressa. Oggi ascolteremo il Vangelo di Giovanni dal capitolo 16, versetto 29 a 33. Ascoltiamo. In quel tempo i discepoli dissero a Gesù, ecco adesso parli chiaramente e non fai più uso di similitudini. Ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù, adesso credete? Ecco, vera l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio, mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia. Io ho vinto il mondo. Cari amici, con questo brano del Vangelo siamo nell'ambiente dell'ultima cena, ambiente di fraternità e di addio, di tristezza, ma anche di aspettativa. Ecco, adesso parli chiaramente. Gesù aveva detto prima ai suoi discepoli, il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono venuto da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo, vado al Padre. Ascoltando questa affermazione di Gesù, i discepoli risposero ecco, adesso parli chiaramente e non fai più uso di quei similitudini. Perché noi ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. perché Gesù ha dichiarato che voi mi amate. Quindi i discepoli da lì hanno percepito che Gesù riesce a leggere anche dentro il cuore dell'uomo perché loro pretendevano di amare Gesù. e Gesù reagisce dicendo per questo crediamo no, loro dicono per questo crediamo che sei uscito da Dio cioè i discepoli pensano di aver capito tutto ma questo era appena l'inizio. Gesù allora le annuncia la sua passione e il tradimento da parte dei discepoli. mi lascerete solo ma io non sono solo perché il Padre è con me Gesù le chiede allora adesso credete perché tante volte non hanno manifestato quella fede in Cristo Gesù. Lui che conosce i suoi discepoli sa che manca molto per la comprensione del mistero di Dio sa che malgrado la buona volontà e malgrado la luce appena ricevuta in quel momento i discepoli devono ancora affrontare la sorpresa inattesa e dolorosa della passione della sua morte. Ecco allora il perché Gesù ci vuole incoraggiare. Coraggio! io ho vinto il mondo e viene ora l'ultima frase di Gesù che anticipa la vittoria e che sarà fonte di pace e di resistenza sia per i discepoli di quel tempo che per tutti noi fino ad oggi. vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me voi avrete tribolazione nel mondo ma abbiate fiducia io ho vinto il mondo con il suo sacrificio per amore Gesù vince il mondo Gesù vince Satana i suoi discepoli sono chiamati a partecipare cioè noi battezzati siamo chiamati a partecipare a quella lotta per la vittoria sentire il coraggio che infonde Gesù è già vincere una battaglia ecco non dobbiamo mai pensare credere di aver capito di aver compreso tutto sulla relazione con Dio dobbiamo sempre fidarci di ciò che Gesù è di ciò che ci offre soprattutto in questo periodo in cui ci stiamo preparandoci per ricevere lo Spirito Santo con la Pentecoste quindi apriamoci per dire Signore Gesù sappiamo che Tu sei Dio ma continua ad illuminarci affinché Ti possiamo conoscere sappiamo che Ti abbiamo tradito anche oggi si continua a tradirti a lasciarti da solo ma vogliamo approfittare soprattutto di quel coraggio perché Tu hai vinto il mondo e di poter vivere nella pace nonostante tutto ciò che accade tutto ciò che vediamo intorno a noi oggi che non vada bene Cristo Gesù ha vinto il mondo io sono con Te se il commento al Vangelo ti è piaciuto clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena Colle di Valdelsa, Montalcino Grazie Grazie